Io sono in commissione giustizia da sette anni circa, io non ho mai fatto un comunicato stampa contro un magistrato perché io credo profondamente nell'autonomia e nell'indipendenza della magistratura. La magistratura deve esercitare il potere giudiziario in totale autonomia nel rispetto delle leggi e devono fare ovviamente le sentenze giuste e corrette, però pretendo anche che ci sia autonomia e indipendenza della politica anche le scelte, perché legata a dei contesti particolari perché dico questo, l'autonomia e l'indipendenza dei due organismi che sono diversi, che hanno ruoli diversi e hanno funzioni diverse? Perché se il politico sbaglia è giusto che il politico paghi, anzi se il politico sbaglia proprio perché ha un ruolo di gestione del bene pubblico paga due volte, al tempo stesso però pretendo, perché se è vero come è vero, il dato che ci è stato dato proprio ieri che ogni anno ci sono 7.000 sentenze sbagliate, 7.000 innocenti che vanno in galera vuol dire che se anche il magistrato sbaglia, e il magistrato può sbagliare perché è un essere umano e sbaglia io però vorrei anche, e questo senza toccare la sensibilità di nessuno, e credo che Davico abbia buttato sul tavolo un tema che non può essere fatto scivolare semplicemente sullo scontro politico ma un tema che deve essere approfondito e deve portare la politica a responsabilizzarsi io vorrei anche che il magistrato che sbaglia si assuma quantomeno la responsabilità di scelte sbagliate perché il magistrato che sbaglia, soprattutto in ambito penale, va a incidere profondamente su un bene che è il bene principale, che è il bene della libertà grazie a tutti